Dopo la beffa subita nell'ultima giornata di campionato con la sconfitta maturata ancora nei minuti di recupero contro il Cus Palermo, la Nissa è costretta a rialzare la testa, ma l'avversario ad affrontare è molto difficile. I biancoscudati domenica saranno di scena per la 25esima giornata al generale Gaeta contro l'Enna, capolista del Girone A in coabitazione con l'Atragas. Partita dura con una squadra forte che viene dalla Roboando e vittoria di Mazzara è consapevole della propria forza, lanciata in questo finale di stagione dalla voglia di promozione. Gli uomini di Alessio Sferrazza devono uscire da questo momento di crisi e di risultati che l'hanno portata in una zona di classifica molto calda e devono riuscire a non farsi risucchiare nel gruppo play-out dove per il momento la Nissa dista di sole quattro lunghezze. Enna Nissa si giocherà a porte chiuse dopo la decisione della Prefettura di Enna e dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, in base ai fatti che si sono susseguiti vicino al Palmindelli prima della gara di andata. Eccellenza Girone A, 25esima giornata Castellammare Acragas, Cus Palermo Casteldaccia, Don Carlo Misilmeri Mazzara, Enna Nissa, Nuova città di Gela, Oratorio San Ciro e Giorgio, Profavara Sciacca, Resuttana Leonfortese, Mazzarese, Parbonval.